Si avviano a conclusione i lavori di somma urgenza in corso lungo la costa di Policastro per liberare lo sbocco a mare di uno dei cinque canali ostruiti negli anni da strutture pubbliche e private. Lo ha riferito nel suo lungo intervento in rassegna stampa il consigliere Giovanni Fortunato, che ha indicato le azioni che il Comune si appresta ad eseguire per bonificare l'intera fascia costiera. A breve, ha detto, sarà presentato il progetto con la richiesta di fondi al Ministero per la bonifica dell'intero tratto a ridosso del lungomare. Una volta bonificata l'aria si passerà alla riqualificazione della stessa tenendo conto di quanto già previsto dal piano regolatore. Il piano regolatore prevede la pianificazione di quell'aria e le strutture ricettive e la sistemazione a verde. Quindi cosa si può fare a ridosso del mare? Certamente non barracco, certamente non capannoni industriali, mi pare ovvio, infrastrutture turistiche ricettive di sviluppo che diamo assolutamente la possibilità ai cittadini come abbiamo fatto sul lungomare con i negozi di acquistarli. E mentre il Comune progetta il futuro di quell'aria, i cittadini che la occupano da decenni continuano a rivendicarne la proprietà e si appellano ad avvocati e anche a politici per tentare di frenare i progetti dell'amministrazione Fortunato. Del caso è stato interessato il deputato del PD, Simone Valiante, che giovedì scorso con una lettera ha sollecitato l'intervento del ministro dell'interno e del vice prefetto di Salerno. Nella missiva ripercorre i fatti degli ultimi giorni evidenziando il clima di tensione che si è creato in paese per via degli abbattimenti eseguiti dal Comune, ricordando al ministro Alfano e al vice prefetto Cirillo che sui terreni interessati gravano una serie di cause che dovranno servire proprio a stabilire chi è proprietario di quelle terre vicino al mare di Policastro. All'iniziativa di Valiante Fortunato ha replicato così. La sua fortuna è dovuta al padre Antonio Valiante, è un nominato della politica. Puntualmente si interessa delle cose per alimentare la discorde, il destino e non va a progredire questo territorio, ma la cosa più grave è che puntualmente a Policastro Bussentino quando c'è la questione dei lidi arriva a manifestare con quelli contro per risolvere i problemi e non l'ha risolto. La questione Centro dei Roses fa la sfilata e puntualmente abbiamo visto i risultati. Io gli consiglio a Simone Valiante, visto che ha la fortuna per questa volta e mai più, di essere nominato al Parlamento italiano, di preoccuparsi delle cose serie. La Cilentana sta in un stato di vergogna e di pericolosità, lui sta al governo, finanziasse la messa in sicurezza del territorio della Cilentana, soprattutto si preoccupasse e dicesse chiaramente la sua posizione sulla Sdam, sulla Sdam che vuole distruggere la nostra terra e ancora la sua posizione, non a chiacchiere concretamente in Parlamento, non l'ha espressa. È grave che un deputato dice queste cose quando un sindaco responsabilmente mette in atto tutti i provvedimenti di messa in sicurezza del centro abitato e dei cittadini. L'intervento integrale del consigliere regionale e comunale Giovanni Fortunato alla nostra rassegna stampa andrà in onda dopo il telegiornale.